Il nostro sogno nel cassetto Il mio sogno nel cassetto personale è quello di suonare senza mai annoiarmi o sentirmi costretto a suonare e questo sarebbe bellissimo per questo mi voglio aprire una fattoria con tante bestioline che alleverei per poter trarne profitto e non vivere di musica bravo si è mangiato l'Italia è in tripla fila allora il brano che vi proponiamo adesso si intitola Carcadè che è una bevanda sì 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 è una bevanda medio orientale che serve a rilassarsi e allora quando si è sposati con una donna che non vuole fare più sesso con te allora c'è bisogno di un goccio di Carcadè per potersi rilassare o evitare la seconda che hai detto ci siamo infine sposati a tutti i miei amici smettiti e il broccio di tuo papà la prima notte poi dopo lei non sa che andrà a tutti i miei amici smettiti a tutti i miei amici smettiti a tutti i miei amici smettiti e i miei amici smettiti a tutti i miei amici smettiti sono l'accento e sei I primi tempi si stava sieme e mi sentivo come umbrem insieme a lei. Lei che lavava e cucinava tutto solo per me, adesso invece spazzico in rosticceria e ho stretto con la tizia. Lei che lavava e cucinava tutto solo per me, poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. E poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. E poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. E poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. E poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. E poi mi rassegno e torno sul mio diazogiorno. Di fresco carcadè E' meglio farsi un buon giorno Di fresco carcadè E' meglio farsi un buon giorno Di fresco carcadè Il finale piro tecnico Allora ne approfitto pure io volentanissimo Di presentare il chitarrista di spessore Patrizio Spanò Al basso Ivan Rivalda Ciao Alla chitarra, tastiera, voce e chi fu ne ha Più ne metta Marco Parentela In lingua inglese naturalmente Per i miei amici Arco Alla batteria invece Enzo Nistico Alla telecamerina E alla consulenza tecnico-verbale L'amico GB Io sono Andai della Vanna E sono piacevolmente Bravissimo, bravissimo Un applauso Grazie Brava Un applauso a Paolo24 Che ci ha fatto stare benissimo Siamo stati veramente bene E vi ringraziamo di cuore A tutti quanti